Questa sera al Museo Amaranto viene premiato Mirko Lazzarini, un riconoscimento a uno dei giovani più interessanti della scorsa stagione ed è anche un giocatore che in questa stagione sta veramente dando il meglio di sé. Immagino che da parte tua ci sia grande soddisfazione. Per me è un onore ricevere questi premi che rappresentano proprio un emblema per la città appunto per quanto riguarda Minghelli, per ciò che rappresenta quella rezza e la tifoseria. Ringrazio appunto il Museo Amaranto che mi ha concesso questa grandissima soddisfazione e spero di continuare così anche quest'anno. Quest'anno davvero stai facendo cose straordinarie. Oramai sei diventato un centrale di difesa ma sei un giocatore che può essere definito un tutto campo. Io come dico sempre, dopo il mister mi mette gioco. Ora sto facendo bene centrale, vediamo più avanti e speriamo di centrale il nostro obiettivo che l'obiettivo principale è quello di vincere e dobbiamo riuscirci a tutti i costi. Domenica è arrivata questa bellissima vittoria, uno squillo da parte dell'Arezzo ci voleva in un momento forse di flessione. Sì, dopo la brutta sconfitta di Ostia non era neanche scontata andare lassù a Biancastagnaio per ottenere questa vittoria. Siamo stati veramente bravi e sono convinto che se affrontiamo ogni partita con questo piglio riusciamo veramente a toglierci delle grandi soddisfazioni.